Buon pomeriggio a tutti, vi ringrazio per la partecipazione. Iniziamo e passeremo un'oretta parlando, affrontando il tema della norma ISO 14064-1 e dei suoi vantaggi. Mi presento, sono Maria Grazia Di Filippo, sono l'idodditor dello schema ISO 14064-1 per DASA. Che argomenti affronteremo oggi pomeriggio rispetto alla norma? Inizieremo parlando del contesto, per quanto riguarda conosceremo il mondo delle emissioni, definizioni delle emissioni GHG, il cambiamento climatico, affronteremo il concetto di impronta di carbonio, ho detto anche carbon footprint, infine affronteremo l'argomento dell'inventario dei GHG a livello di organizzazione, quindi entreremo un po' a fondo e conosceremo un po' la norma 14064-1 e per concludere parleremo anche del processo di verifica. Iniziamo dal contesto. Che cos'è l'effetto Serra? L'effetto Serra realmente, il famoso effetto Serra, è un fenomeno naturale, fondamentale per la vita sulla Terra, che interviene negli scambi energetici tra spazio, atmosfera terrestre e superficie terrestre. Solo una parte dei raggi solari passa attraverso l'atmosfera e raggiunge la Terra e sotto l'effetto dei raggi solari e il terreno si riscalda e a sua volta emette raggi infrarossi. Questi vengono catturati dai gas Serra che riscaldano il pianeta, quindi naturalmente la superficie terrestre assorbe il 70% della radiazione solare, mentre il resto viene riflesso nello spazio attraverso il famoso riverbero. La radiazione solare assorbita viene poi trasformata in radiazione infrarossa e restituita all'atmosfera. Una parte di questa radiazione infrarossa viene poi riflessa nello spazio, mentre il resto viene trattenuto dai gas Serra nell'atmosfera. Quindi parleremo di effetto Serra naturale quando questo effetto Serra rende possibile la vita sulla Terra, così come questa si è sviluppata finora. La presenza naturale dei gas Serra, vapore acqueo e biossido di carbonio, è responsabile, secondo le attuali conoscenze scientifiche, di una differenza di temperatura pari a 33 gradi centigradi. Questo significa che senza l'esistenza dei gas Serra la temperatura media sulla Terra sarebbe realmente di 18 gradi centigradi inferiore e che la Terra e la vita su di essa si sarebbero sviluppate in modo diverso da quello che è successo realmente. Quindi l'emissione dei gas Serra da parte dell'uomo amplifica questo effetto naturale e quindi parleremo dell'effetto Serra antropico, quindi dove l'equilibrio naturale tra radiazione incidente e radiazione riflessa è stato alterato dall'uomo, dall'essere umano, dall'industrializzazione. Infatti dall'inizio dell'industrializzazione le emissioni dei gas che influenzano il clima, come il biossido di carbonio, CO2, il metano, il prodossido di azoto, stanno aumentando sensibilmente. Al giorno d'oggi si registra il 40% di CO2 in più rispetto all'inizio dell'era industriale. Pertanto la superficie terrestre dall'inizio del ventesimo secolo si è riscaldata a livello globale di oltre un grado centigrado e quindi questa è proprio la definizione quando si parla di effetto Serra artificiale o antropico. Quali sono i principali gas Serra? Li conosciamo tutti, il vapore acqueo, H2O, il biossido di carbonio, CO2, il metano, CH4, il prodossido di azoto, N2O e l'ozono, O3. La CO2 è il gas più emesso dalle attività umane e quindi rappresenta i due terzi dell'effetto Serra. Le emissioni di CO2 si suddividono. L'80% delle emissioni proviene dalla combustione di idrocarburi e il 20% delle emissioni di CO2 proviene dalla distruzione delle foreste. Però realmente il diossido di carbonio ultimamente rappresenta quasi l'82% delle emissioni di effetto Serra, dei gas responsabili di effetto Serra. Quali sono le conseguenze dell'effetto Serra sul pianeta? Il riscaldamento globale. Lo conosciamo tutti questo grande problema. Dal 1850 la temperatura media globale è aumentata di 76 gradi centigradi. Gran parte del riscaldamento si è verificata negli ultimi 50 anni a causa appunto delle attività umane, a causa dell'uso dei combustibili fossili per ottenere energia, agricoltura e deforestazione. Quindi ogni giorno, ogni anno stiamo già avvertendo le conseguenze del cambiamento climatico. Ondate di calore, eventi atmosferici estremi sono alcuni esempi. Secondo l'ultimo rapporto dell'IPCC, che è il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, l'ultimo rapporto è del 2021. Cambiamenti profondi a lungo termine, come lo scioglimento delle calotte glaciali, l'aumento delle temperature e del livello dei mari, l'acidificazione degli oceani sono già in corso in modo irreversibile. Quindi è una realtà preoccupante. Abbiamo visto la definizione, quindi che cosa sono i gas di effetto serra, che cos'è l'effetto serra, quali sono le conseguenze. Vediamo un po' a livello legislativo qual è il contesto internazionale e nazionale. Dal 1992 ci fu la prima convenzione del quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, nota anche come Accordi di Rio. Entrò in vigore il 21 marzo del 1994. L'obiettivo dichiarato fu raggiungere la stabilizzazione delle concentrazioni dei gas serra in atmosfera a un livello abbastanza basso per prevenire interferenze antropogeniche dannose per il sistema climatico. Nel 1997 venne firmato il primo accordo del protocollo di Kyoto, dove ci furono i primi impegni internazionali per la riduzione delle emissioni di CO2. Il primo obiettivo fu per il periodo 2008-2012 di ridurre un 5% delle emissioni di CO2. Nel 2015 venne firmato l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, dove venne presentato un piano di azione per limitare il riscaldamento globale. L'obiettivo stabilito fu di mantenere la soglia dell'aumento del riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi centigradi, concentrando tutte le azioni al raggiungimento di un grado e mezzo. L'Unione Europea e tutti i suoi stati membri hanno firmato e ratificato l'accordo di Parigi e sono fortemente determinati ad attuarlo. In linea con questo impegno, i paesi dell'Unione Europea hanno convenuto avviare l'Unione Europea sulla strada che le porterà a diventare la prima economia e società a impatto climatico zero entro il 2050. Venne firmata anche l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che è costituita da 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, inquadrati all'interno di un programma di azione più vasto, costituito da 169 target o traguardi ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030. I famosi obiettivi 20-30. Ci sono tantissime iniziative europee che sono state stabilite a livello europeo in vari paesi e in tutti gli stati membri per poter raggiungere gli obiettivi, i famosi 17 obiettivi. Nel 2019 venne firmato il Green Deal europeo, che significa letteralmente patto verde, che è un pacchetto di misure concrete, leggi e investimenti da implementare nei prossimi 30 anni, avendo sempre come obiettivo l'obiettivo temporale, l'obiettivo 2050. Al cuore del Green Deal troviamo la neutralità climatica, cioè emissioni zero, emissioni 12, zero. L'Europa appunto infatti a fare la sua parte nel limitare l'aumento del riscaldamento globale, divenendo il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Nel 2021 è stata firmata la legge europea sul clima. Il 21 luglio 2021 è entrata in vigore la legge europea sul clima, che stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050. Quindi non sono più dei patti degli obiettivi, ma è diventato tutto, è stato trasformato in una legge europea vincolante. Istituisce un quadro per progredire nel perseguimento degli obiettivi globali di adattamento agli obiettivi 2050. Oltre all'obiettivo della neutralità climatica da raggiungersi entro il 2050, a livello giuridico vincolante e a livello dell'Unione, la legge europea sul clima prevede ridurre il 55% delle emissioni nette dei gas effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e questo coinvolge tutti gli Stati membri, inclusa l'Italia. Nel 2022 è stata firmata l'ultima direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità dove si estendono gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità a tutte le imprese di grandi dimensioni, nonché a tutte le imprese con i valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, comprese quindi le piccole e medie imprese e ad eccezione delle solo microimprese, quindi per mezzo di questa direttiva tutte le piccole e medie imprese dovranno rendicontare le proprie emissioni. Deve essere recepita entro il 6 luglio 2024 con differenziazioni temporali in base agli esercizi avvent'inizio il 1 gennaio 2024 o 2025 o 2026 e prevede una comunicazione annuale della Commissione, secondo l'articolo 6, sullo stato della sua attuazione. L'Italia non ha ancora recepito questa legge, però dovrà essere imminente. A livello nazionale, quindi a livello italiano, inizia a muoversi anche la necessità di rendicontare le proprie emissioni e quindi il più recente è il codice appalti. Il rinnovato a codice appalti incentiva approcci e strumenti green in direzione di appalti verdi. Il particolare riferimento è stato rivolto anche agli apparti pubblici che oggi rientrano nel grande filone dei GPP, Green Public Procurement, acquisti verdi delle pubbliche amministrazioni. Le stazioni appaltanti pubbliche che oggi promuovono gare per la fornitura di prodotti o l'erogazione dei servizi devono inserire dei bandi le indicazioni ambientali espresse dai CAM del settore. che sarebbero i CAM, i criteri ambientali minimi, insieme alle specifiche gelovolazioni per le aziende che si dotano di questi strumenti di valutazione ambientale. In questi strumenti ci sono anche la rendicontazione delle emissioni di CO2. Una volta abbiamo già visto il contesto a livello internazionale e a livello nazionale, abbiamo definito cosa sono i gas serra, passiamo al concetto di impronta di carbonio o carbon footprint. Cosa significa proprio impronta di carbonio? La definizione impronta di carbonio o carbon footprint corrisponde alla misura della quantità totale dei gas ad effetto serra emessi in atmosfera dalle attività umane, possono essere attività, eventi, prodotti o servizi misurata in termini di CO2 equivalenti, quindi la CO2 equivalente sarà la nostra unità di misura, è un dato che cosa significa CO2 equivalente? Il dato che la CO2 è il principale gas serra e quindi viene preso come riferimento per tutte le misurazioni. Ad essa vengono ricondotti tutti i gas serra, come per esempio il metano e il protossido di azoto, attraverso dei calcoli, dei fattori di emissione, vengono trasformati, misurati in termini di CO2 equivalenti. Quindi che cos'è la CO2 equivalente? Sarà il nostro indice dell'impatto delle attività umane verso il sistema climatico terrestre e nella conseguente generazione del riscaldamento climatico. Quindi tutto sarà tradotto in tollendate di CO2 equivalente. A cosa serve l'impronta di carbonio? Lo scopo della Carbon Footprint è quello di incentivare la sostenibilità ambientale delle attività umane come tutela nei confronti delle conseguenze del surriscaldamento globale. Fornirà uno strumento di grande utilità per quantificare le emissioni dei gas serra che svolgono un ruolo attivo in qualsiasi processo di produzione e monitorare l'efficienza energetica ambientale di tutte le attività e strutture. Quindi ricorrere a strumenti come il calcolo della Carbon Footprint e a sistemi di gestione delle emissioni di gas serra, Carbon Management, per le aziende significherà avere l'opportunità di monitorare e migliorare le proprie performance ambientali in termini di emissioni di CO2 e altri gas effetto serra. Se non posso monitorare e non posso misurare i miei gas serra, non posso migliorare e ridurre le mie emissioni. Aderire a questo percorso significa quindi partecipare attivamente agli obiettivi della transizione ecologica, scegliendo di distinguersi dai propri competitors e da acquistare importanti vantaggi. Quali sono i benefici principali? Se calcolo la mia impronta di Carbonio. Ottengo maggior consapevolezza delle opportunità di intervento per la sostenibilità ambientale. Ho un risparmio economico conseguente al miglioramento dell'efficienza energetica e delle risorse in azienda. Aumento della green reputation aziendale verso i propri partner, fornitori e potenziali nuove collaborazioni professionali. Molte aziende stanno già ricevendo richieste di emissioni di CO2 legate al proprio prodotto, alla propria attività, sia dei possibili clienti anche dei fornitori. Crescita dell'interesse verso il proprio business da parte dei consumatori, che sempre più ricercano nelle aziende l'attenzione all'ambiente come indice di qualità e sostenibilità, accesso ad agevolazioni fiscali sia a livello nazionale che internazionale. Quindi il futuro è proprio calcolare l'impronta di Carbonio. Come si calcola? Come possiamo calcolare questa famosa impronta di Carbonio. Come abbiamo detto anche prima, bisogna avere chiari che nel calcolo dell'impronta di Carbonio non vengono calcolate solamente le emissioni di CO2, ma vengono calcolate le emissioni di due gas che rientrano nella definizione di gas R e che vengono indicati anche e soprattutto definiti dal protocollo di Kyoto, che è il famoso trattato internazionale in materia ambientale riguardante il surriscaldamento globale. Quali sono i gas? Dobbiamo considerare nel nostro calcolo biossido di Carbonio, CO2, metano, ossido nitroso, idroflorocarburi, perfluorocarburi, esafloruro di zolfo o anche per ossido di zolfo o protossido di azoto. Il vapore acqua è l'unico gas serra che non viene considerato. Tutte queste emissioni vengono a loro volta convertite in CO2 equivalente in base a parametri determinati dalle IPCC, l'organismo operante sulle direttive delle Nazioni Unite. Qual è il processo di gestione per il calcolo dell'impronta di Carbonio? Ho una fase di valutazione, una fase di gestione, di riduzione e compensazione della mia impronta e per ultimo una fase di rendicontazione e comunicazione. Quindi l'impronta di Carbonio deve essere calcolata, gestita in termini quindi di riduzione, se non posso più ridurre devo compensare perché il mio obiettivo, ricordiamoci che entro il 2050 sarà emissioni zero e come compenso acquistando delle emissioni di CO2. Ci sono progetti di compensazione in marcia a livello europeo e per ultimo il calcolo poi deve essere espresso in tonnellate di CO2 equivalente al totale delle emissioni di gas sere associate direttamente o indirettamente a tutte le attività prese in analisi e per ultimo le posso anche comunicare. In Italia non esiste ancora un registro a livello nazionale, a livello di ministero, però sarà il futuro il registro nella pubblica amministrazione per poter comunicare a livello nazionale e poterle rendicontare. Quali sono le norme di riferimento che mi possono servire come guida per il calcolo? Per quanto riguarda l'impronta di Carbonio dei prodotti ho il GHG Protocol, la ISO 14067, la PAS 2050. Per l'impronta di Carbonio di organizzazione, che è quella che noi affronteremo, sarà la ISO 14064, 1 e 2 e il GHG Protocol. Per la compensazione e la neutralità del CO2 abbiamo la PAS 2060 e per progetti di riduzione delle emissioni abbiamo di riferimento il GHG Protocol e la ISO 14064, 2. Quindi abbiamo come quattro famiglie di norme di riferimento. Per quanto riguarda il calcolo dell'impronta di Carbonio di organizzazione, ci sono due famiglie di norme, il GHG Protocol e la ISO 14064, 1 e 2. Che differenza c'è tra queste due famiglie di norme? Il GHG Protocol è più descrittivo e come vi consiglio di leggerlo, è disponibile in inglese, francese e spagnolo. Non è uno standard vero e proprio, quindi non è possibile accreditarlo, quindi Accredia non può accreditare il GHG Protocol, però è una guida fondamentale per conoscere e affondo termini e definizioni, anche una guida per il metodo di calcolo delle emissioni. Invece la famiglia delle ISO 14064 a livello documentale è una ISO, quindi abbastanza più schematica ed è accreditata, quindi è più affidabile a livello di processo di verifica e di certificazione. La famiglia delle ISO 14064 sulle emissioni, come abbiamo visto, ci sono tre tipi. Quelli, la 14064, 1, che è quella di progettazione e sviluppo di inventari di GHG per le organizzazioni, la 14064, 2, di quantificazione, monitoraggio e rendicontazione della riduzione delle emissioni e dell'aumento delle rimozioni. Per ultima, la ISO 14067, che è lo sviluppo di inventari per emissioni collegate ai prodotti, quindi sia per unità funzionale che parziale, per unità dichiarata. La 14064, 1, ha come documenti necessari la redazione di un inventario e un rapporto sui GHG e una dichiarazione sui GHG. L'ISO 14064, 2, è necessaria per potersi certificare una documentazione di progetto e rapporti sui GHG e la ISO 14067 sui prodotti ha bisogno di un rapporto dello studio sul prodotto, sulle emissioni associate al prodotto. Tutte portano una dichiarazione sui GHG, un impegno coerente con le esigenze dell'utilizzatore previsto, quindi devo, in base all'utilizzatore previsto, posso plasmare la mia dichiarazione sui GHG. Immaginate un cliente, un fornitore, un ente pubblico. La guida per la verifica, il processo di verifica e validazione da parte di un ente esterno è la ISO 14064, 3, mentre i requisiti per gli organismi di validazione e verifica sono definiti nella norma 14065 e 14066 per la certificazione delle emissioni di prodotto, la carbon footprint di prodotto. Passiamo alla nostra norma di riferimento, la 14064, 1, che è l'inventario di GHG a livello di organizzazione. Questo è l'indice della norma, vi invito a leggerla, è abbastanza chiara o dettagliata. Ha dieci punti nella norma, scopo e campo di applicazione, riferimenti normativi, termini e definizioni, principi, confini dell'inventario di GHG, quantificazione delle emissioni e rimozioni di GHG, attività di mitigazione, gestione della qualità dell'inventario di GHG, rendicontazione dei GHG, ruolo dell'organizzazione nelle attività di verifica. È un'ottima guida, ma i punti più importanti sono la parte delle appendici. Appendice A, procedimento di consolidamento dei dati, la B, categorizzazione delle emissioni dirette e indirette dei GHG, la C, guida alla selezione, raccolta e utilizzo dei dati per l'approccio di quantificazione dei GHG per le emissioni dirette, la D, trattamento delle emissioni di GHG biogeniche e delle rimozioni di CO2, la E, il trattamento dell'elettricità, la F, la struttura e organizzazione del rapporto sull'inventario di GHG, la G, guida agricola e forestale, la H, guida al processo di identificazione delle emissioni indirette e significative dei GHG. Sono tutti annessi informativi tranne la parte D del trattamento delle emissioni di GHG biogeniche e di rimozioni di CO2 e la parte E del trattamento dell'elettricità, quindi che significa normativa che sono di applicazione obbligatoria. La norma si basa su dei principi fondamentali che bisogna applicare nel calcolo e nella rendicontazione delle emissioni. L'applicazione di questi principi è fondamentale per garantire che tutte le informazioni sui GHG siano contabilizzate in modo equo e corretto e sono i principi base di tutti i requisiti della norma, quindi è obbligatorio compierli. E sta anche a noi auditor il compito di valutare il compimento di questi punti. Qual è il primo principio? Il principio di pertinenza, cioè l'organizzazione deve selezionare le sorgenti, gli assorbitori, i serbatoi di GHG, i dati e le metodologie appropriati e le necessità dell'utilizzatore previsto. Quindi non posso, ad esempio, tralasciare una sorgente di emissione di CO2 o applicare una metodologia di calcolo approssimativa se ho a disposizione dei dati più pertinenti. Quindi devo compiere con il principio di pertinenza. Principio di completezza. Devo includere tutte le emissioni e le rimozioni di GHG pertinenti. Ad esempio, se non ho a disposizione dei dati, non posso escludere dal calcolo quelle emissioni. Posso stimarle, posso valutare la significatività se sono emissioni indirette, ma non posso escluderle se sono direttamente legate alla mia attività. Coerenza. Devo permettere dei confronti significativi tra le informazioni relative ai GHG. Accuratezza. Devo ridurre gli errori sistematici e le incertezze per quanto possibile. Quindi devo utilizzare dei dati primari o secondari reali. Devo evitare delle approssimazioni. Se ho a disposizione dei dati, devo utilizzare quei dati. Anche se in molti casi è abbastanza laborioso. E l'ultimo, ma non il meno importante, la trasparenza. Divulgare informazioni relative ai GHG sufficienti e appropriate in modo da permettere agli utilizzatori previsti di prendere decisioni con ragionevole confidenza. Quindi non posso tralasciare informazioni e devo comunicare e dichiarare tutte le missioni generate a livello di organizzazione. Quali sono le fasi di realizzazione, di rendicontazione, della carbon footprint di organizzazione, a livello di organizzazione? Il primo step. Devo definire i confini organizzativi e operativi dell'organizzazione. Quali sono ad esempio i confini organizzativi? Cioè devo dire se sono i miei confini di mio approccio di controllo o di equa ripartizione. Di controllo se si contabilizzano le missioni sulle quali l'azienda è il controllo finanziario operativo. Quindi io sono un'azienda XXXSPA, esisto solo io, la mia attività, sono un'organizzazione individuale, quindi avrò dei confini organizzativi di controllo. D'equa ripartizione invece è quando si contabilizzano le missioni in proporzione alle proprie quote di controllo. Appartengo a un gruppo e in quel caso potrò applicare equa ripartizione se la mia azienda è controllata al 50% da un'altra azienda del gruppo. Quindi io dichiarerò solamente il 50% delle mie attività o la parte proporzionale, la quota parte, della mia responsabilità a livello di attività, di confini organizzativi. Una volta che ho definito i miei confini organizzativi, devo definire i miei confini operativi, quindi il tipo di sorgenti, assorbitori, le mie fonti di emissioni e definire le mie categorie. Le categorie, il tipo di emissioni dirette e indirette che sono le applicazioni, includendo anche le esclusioni. Secondo step, creazione del modello di analisi. Devo definire le fonti, il tipo di emissione, identificare le metodologie di quantificazione per ogni fonte, quindi come lo calcolerò, la selezione delle fonti dei dati e riferimenti interni ed esterni, quindi emissioni dirette associati all'uso dei veicoli. Quale sarà il mio metodo? Il mio metodo, ad esempio, sarà chilometri percorsi in un anno per il fattore di emissione corrispondente. Le mie fonti saranno la lista dei veicoli, quindi 12 veicoli diesel. Quindi i miei dati saranno i contratti, la lista dei veicoli, i miei contratti, che sono il renting, o il mio conteggio dei chilometri per ogni tipo di veicolo e i fattori di emissione associati. In questo modo definirò la metodologia di quantificazione. Terzo step, raccolta e valutazione dei dati. Quindi preparo delle schede di raccolta dati, delle diverse installazioni e sorgenti emissive. Possono essere Excel, perfettamente. Una volta che ho raccolto le schede dati di attività, faccio un primo screening, analizzo la qualità dei dati e valuto il tipo di informazione in mio possesso. Gestisco le richieste di integrazione dei dati e di aggiornamento, quindi potrei cercare un nuovo metodo di quantificazione, perché posso accorgermi che la qualità dei dati ottenuta non mi dà un'informazione reale, pertinente. Successivo step, creo l'inventario delle emissioni. Quindi creo il mio inventario seguendo i requisiti della norma, in questo caso la nostra guida è la 14.064.1. Possiamo anche seguire il GHG Protocol, è un'ottima guida come linea guida per il calcolo e il calcolo dell'incertezza anche, ci sono delle ottime guide. Quindi creo l'inventario, il GHG, calcolo l'incertezza sulla quantificazione delle ponti di emissione e individuo i miei fattori di emissione pertinenti. Una volta che ho creato l'inventario, calcolo le emissioni, la carbon footprint, seleziono e sviluppo il modello di quantificazione, calcolo le emissioni di tonnellate di G2 equivalenti e le rimozioni su base annuale, valuto e realizzo una valutazione e una revisione interna. Una volta che conosco la mia carbon footprint, ovviamente definita sempre su base annuale e devo definire anche il mio periodo di rendicontazione, di solito è un anno naturale, individuo degli step di miglioramento. La norma mi obbliga a ridurre le emissioni o a definire degli obiettivi di riduzione. Quindi definisco un piano di miglioramento, individuo i target di riduzione, strumenti, tempistiche, progetti, iniziative di mitigazione. In questo caso ci può venire anche in aiuto chi è certificato in ISO 14001. Può integrare perfettamente gli obiettivi di riduzione, con quelli di riduzione nel piano di miglioramento della carbon footprint. E realizzo infine un GHG report in accordo con i requisiti della norma di riferimento. L'ultimo step volontario è l'audit e la certificazione esterna. Parleremo in seguito del processo di audit e di certificazione. Quindi si ottiene in seguito alla validazione delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti mediante apposita documentazione. Quindi queste sono le singole fasi di realizzazione della carbon footprint. Quindi definisco i confini organizzativi e operativi, creo un modello di analisi, raccolgo e valuto i dati, creo l'inventario e il calcolo, definisco un piano di miglioramento e posso anche certificarlo esternamente. Quindi, entriamo un po' più nel dettaglio. Che significa definire i confini? I confini organizzativi li abbiamo già definiti. Possono essere di controllo ed equa ripartizione. Per un maggior approfondimento potete leggere l'appendice A della norma, dove vengono forniti degli esempi più specifici. Di solito il 90% degli inventari applicano dei confini organizzativi di controllo. Il secondo step è definire i confini di rendicontazione. Quindi devo definire e stabilire quale categorie dell'inventario di GHG sono di applicazione. L'organizzazione deve stabilire e documentare i propri confini di rendicontazione, inclusa l'identificazione delle emissioni e rimozioni dirette e indirette di GHG associate alle proprie operazioni. Questa è la definizione della norma. Quindi, devo considerare tutte le operazioni legate alla mia attività a livello di organizzazione e devo identificare tutte le emissioni e rimozioni, sia dirette che indirette, che sono associate alla mia attività. Quali sono le categorie dell'inventario di GHG che devo considerare? Queste sono le categorie principali, sono sei. Emissioni e rimozioni dirette dei GHG. Dirette perché sono, poi vedremo la definizione della norma, perché sono legate direttamente all'attività dell'organizzazione. Le altre sono tutte emissioni indirette, cioè non generate direttamente dall'attività dell'organizzazione, ma a livello indiretto. Per le loro attività, upstream e downstream, quindi a monte e a valle. Quindi abbiamo le emissioni indirette derivanti da energia importata, emissioni indirette derivanti dal trasporto, emissioni indirette di GHG derivanti dai prodotti utilizzati dall'organizzazione, emissioni indirette di GHG associate all'uso dei prodotti provenienti dall'organizzazione ed emissioni indirette di GHG da altre fonti. Queste sono le sei categorie definite dalla norma. In ogni categoria le emissioni non biogeniche, le emissioni biogeniche antropogeniche, e se quantificate e rendicontate, le emissioni biogeniche non antropogeniche devono essere rendicontate separatamente, quindi di solito nelle attività normali non ce ne sono, se vengono rendicontate tutti questi tipi di emissioni biogeniche, non biogeniche, biogeniche antropogeniche, e sì, scusate, antropogeniche, devono essere rendicontate a parte da queste sei categorie. sono definite nell'appendice B. Quindi l'organizzazione dovrebbe documentare le categorie separatamente a livello di installazione, quindi se ho varie sedi devo rendicontarle e documentarle separatamente, e le emissioni di GHG devono essere ultimamente suddivise in sottocategorie coerenti con le categorie sopra elencate. L'appendice B riporta un esempio di sottocategorie. Questa è un po' la rappresentazione della nostra organizzazione. Al centro abbiamo le emissioni dirette generate dall'organizzazione. A sinistra abbiamo le emissioni indirette a monte, quindi il consumo elettrico, il trasporto e i servizi usati dall'organizzazione. e a valle abbiamo i beni comprati dall'organizzazione e l'uso dei prodotti venduti dall'organizzazione. Quindi la categoria sei sono altre emissioni, possono essere ad esempio lo smart working o in alcuni casi inseriscono anche il consumo dell'acqua. È una categoria un po' libera. Sono altri tipi di emissioni che non vengono incluse nelle altre categorie della norma. Vediamo un po' quali sono la norma come definisce le emissioni dirette. L'organizzazione deve quantificare le emissioni dirette di GHG separatamente per CO2, CH4, N2O, NF3, SF6 e altri gruppi di gas serra in tonnellate di CO2 equivalente. Quindi ricordate, le emissioni dirette rendicontate devono essere sempre quantificate separatamente. Quindi devo tradurre le mie quantità di CO2, CH4, N2O, NF3, SF6 in tonnellate di CO2 equivalenti e li devo dichiarare separatamente. Poi posso anche dichiarare le tonnellate di CO2 equivalenti totali associate alle emissioni dirette, ma le devo dichiarare e quantificare separatamente anche nel mio report. Devo dichiararle separatamente. È un requisito della norma. Se ho delle rimozioni, l'organizzazione le deve anche quantificare e dichiarare a parte. Esempi di sottocategorie di emissioni dirette. Ad esempio abbiamo le emissioni dirette provenienti da combustione stazionaria, un forno a gas, un gruppo elettrogeno, emissioni dirette provenienti da combustibile mobile, veicoli, emissioni e rimozioni dirette di processo derivanti da processi industriali, ad esempio depurazione delle acque reflue, ad esempio combustione, altri tipi di combustione, altri tipi di processo agricoli, emissioni dirette e fuggitive provenienti dal rilascio di acque agine e sistemi antropogenici, emissioni fuggitive associate derivate all'uso di riscaldamento, alea condizionata, sistemi di estinzione incendi, estintori, emissioni e rimozioni dirette derivanti dall'uso del suolo, dal cambiamento dell'uso del suolo e dalla civil cultura, uso di additivi chimici per l'agricoltura. Emissioni indirette. L'organizzazione deve applicare e documentare un processo per la determinazione delle emissioni indirette da includere nel proprio inventario del GHG. Come parte del processo, l'organizzazione deve stabilire e spiegare i propri criteri predefiniti per la materialità delle emissioni indirette in considerazione dell'uso previsto del GHG. Quindi, devo definire e documentare un processo per determinare tutte le emissioni indirette da includere nel proprio inventario. Una volta che ho definito quali sono le mie emissioni indirette, devo definire anche spiegare i miei criteri predefiniti e applicati per aver considerato e identificato quel tipo di emissioni indirette. E devo considerare anche l'uso previsto dell'inventario del GHG. Qualunque sia l'uso previsto, i criteri non dovrebbero essere applicati in modo da escludere quantità significative di emissioni indirette o eludere gli obblighi di conformità. Posso anche definire cosa significa questo. Posso definire identificare delle emissioni indirette associate al consumo di acqua. Se il mio consumo di acqua è inferiore a un impatto sul totale delle emissioni inferiore a un 1%, potrei definire e applicare come criterio escludere quel tipo di emissioni indirette perché ho una quantità poco significativa di emissioni che mi genera un impatto minimo. Quindi posso decidere di non dichiararlo e quindi di non calcolarlo. Attraverso l'applicazione di questi criteri l'organizzazione deve identificare e valutare le proprie emissioni indirette in modo da selezionare quindi quelli significativi. L'organizzazione deve quantificare e rendicontare tali emissioni significative e le esclusioni di emissioni indirette significative devono essere motivate. Quali sono le emissioni indirette? Abbiamo detto categoria 2 emissioni indirette da energia importata a consumo elettrico. Categoria 3 emissioni indirette dei GHG derivanti dal trasporto ad esempio esempi di sottocategorie della categoria 3 sono viaggi di lavoro pendolanismo trasporto di mercanzie categoria 4 emissioni indirette derivanti dai prodotti utilizzati dall'organizzazione qui ci sono materie prime acquisti di materie prime servizi e altri tipi di uso di prodotti utilizzati e la rigenerazione dei residui nella categoria 5 invece abbiamo emissioni indirette associate all'uso dei prodotti provenienti dall'organizzazione quindi in questo caso una delle sottocategorie più importanti è l'uso sono quelle emissioni indirette associate all'uso del prodotto venduto dall'organizzazione e per ultima nella categoria 6 abbiamo delle emissioni indirette derivanti da altre fonti ad esempio lo smart working quindi per poter identificare le mie emissioni indirette significative cosa devo fare? Devo identificare tutte le emissioni indirette che sono di applicazione a livello di organizzazione nella mia organizzazione quindi sia a monte che a valle devo definire noi raccomandiamo di realizzare un diagramma di flusso delle attività per poter identificare tutte sia le sorgenti che tutti i tipi di emissioni indirette e dirette di applicazione stabilisco dei criteri di valutazione della significatività quindi devo definire a livello posso farlo anche sia a livello qualitativo che quantitativo quali di queste emissioni indirette sono significative quindi hanno un peso a livello di tonnellate di CO2 equivalenti nel mio inventario e valuto le emissioni indirette applicando i criteri stabiliti quindi una volta che ho definito quali sono le mie emissioni sotto categorie di emissioni indirette significative posso calcolare le emissioni indirette procedo per il calcolo e la rendicontazione come definisco se le mie emissioni indirette sono significative o non significative nell'appendice H sono definiti criteri di valutazione della significatività delle emissioni indirette è una parte fondamentale per il processo di inventario del GHG esempi di criteri applicati per valutare la significatività delle emissioni entità quindi le emissioni o rimozioni indirette ritenute quantitativamente sostanziali il famoso 1% che vi commentavo prima tutte le emissioni indirette che hanno una quantità inferiore all'1% sul totale delle emissioni dirette hanno una significatività bassa tutte quelle superiori a un 50% alta così possiamo anche definire quella media livello di influenza la misura in cui l'organizzazione è in grado di monitorare e ridurre le emissioni e rimozioni ad esempio efficienza energetica progettazione compatibile impegno dei clienti termini di riferimento ovviamente questo livello di influenza è un criterio qualitativo dipenderà dal tipo di organizzazione rischio opportunità sono le emissioni e rimozioni indirette che contribuiscono all'esposizione dell'organizzazione a rischi tipo rischi legati al clima come quelli o rischi di natura finanziaria regolamentaria di catena di fornitura legati a prodotti e clienti controversie reputazionali o anche sono legate a opportunità per le attività quindi nuovi mercati nuovi modelli di business quindi posso considerare che le emissioni e rimozioni dirette contribuiscono ai miei rischi o alle mie opportunità altri tipi di criteri ho una guida specifica del settore quindi anche se ho una quantità di emissioni minime o inferiore all'1% ma le devo dichiarare perché le mie emissioni di GHG sono considerate significative dal settore di attività perché è una guida specifica del settore che mi obbliga a rendicontare quel tipo di emissioni indirette outsourcing le emissioni e rimorzioni indirette derivanti delle attività esternalizzate generalmente sono considerate principali e l'impegno dei dipendenti ci sono emissioni indirette che possono giustificare i dipendenti a ridurre l'uso di energia unire lo spirito di gruppo sul cambiamento climatico ad esempio se ci sono incentivi per la conservazione dell'energia auto di gruppo prezzi interni di carbonio questo potrebbe influire ad esempio essere considerato in organizzazioni non produttive quindi abbiamo definito i confini organizzativi i confini di rendicontazione dobbiamo definire anche le esclusioni cosa posso escludere l'organizzazione può escludere le sorgenti e gli assorbitori di GHG il cui contributo all'emissione o rimozioni di GHG non risulti rilevante essa deve identificare e spiegare perché le sorgenti e gli assorbitori sono esclusi in conformità alle categorie e ad ogni suddivisione in categorie incluse nel rapporto questo è necessario definirlo per rispondere al principio di completezza e quantificare ogni sorgente dell'inventario per la prima volta per poi decidere quali emissioni sono importanti o no quindi per il mio primo inventario devo fare la lista di tutte le categorie sotto categorie e definire di tutte le mie sorgenti e decidere quali posso escludere anche perché ci sono delle categorie ad esempio la categoria una buona parte della categoria 5 può essere esclusa nel caso in cui io non vendo beni quindi non ho uso non vendo dei beni quindi non ho un impatto sulle emissioni indirette di uso dei prodotti venduti perché non ne vendo quindi posso escluderla come categoria posso escludere la categoria 6 perché non hanno altri tipi di emissioni indirette associate alla categoria 6 quindi la posso escludere perfettamente secondo step ho definito i confini devo definire l'anno di riferimento cos'è l'anno di riferimento cosa dice la norma l'organizzazione deve definire un anno di riferimento storico per confrontare le emissioni e rimozioni dei GHG o soddisfare i requisiti di un programma GHG o qualsiasi altro uso previsto dall'inventario dei GHG le emissioni o rimozioni per anno base possono essere quantificate in un periodo specifico ad esempio un anno o una sua parte in cui la stagionalità rappresenti una caratteristica fondamentale dell'attività dell'organizzazione o possono essere calcolate come media di due periodi differenti per esempio diversi anni quindi in mancanza di informazioni sufficienti sulle emissioni o rimozioni storiche l'organizzazione può utilizzare il primo periodo di inventario dei GHG come anno di riferimento quindi se la prima volta che calcolo il mio inventario utilizzerò l'anno di riferimento l'anno dello stesso calcolo quindi il primo periodo di inventario esempi un anno per esempio utilizzo come anno di riferimento il 2015 media dei periodi differenti ad esempio la media degli anni 2012 fino al 2016 una media mobile ad esempio l'anno 2014 e l'anno di riferimento per il 2015 il 2015 sarà l'anno di riferimento per il 2016 e così via ho confronto sempre con l'anno precedente quindi la selezione e definizione dell'anno di riferimento è abbastanza a criterio dell'organizzazione ho definito l'anno di riferimento adesso devo identificare il tipo di emissioni quindi identifico tutte le emissioni associate ad ogni categoria tutti i tipi di emissioni dirette categorie sotto categoria ho realizzato l'analisi della significatività quindi identifico le emissioni che devo calcolare identificate emissioni dirette e indirette associate ad ogni categoria il mio quarto step è la raccolta dei dati calcolo definisco che modello lo utilizzo e che tipo di calcolo la la P10CG è una guida della norma dove aiuta alla selezione raccolta e all'utilizzo dei dati per l'approccio di quantificazione dei GIAG per le emissioni dirette quali dovrebbero essere le fasi di approccio della quantificazione devo raccogliere i dati quindi devo definire un modello di GIAG e realizzare i calcoli quindi definisco il mio diagramma tutti i tipi di fonti di emissione elettrica calore vapore se ho trasporto tipo di trasporto numero di visite dei clienti viaggi di lavoro pendolarismo distribuzione nel trasporto i servizi tipo di servizi contrattati consumo di acqua residui consumo di materie prime uso dei prodotti venduti emissioni dirette emissioni fuggitive fonte mobili fonte fisse combustione fissa combustione mobile emissioni associate al processo di produzione e quindi passo alla fase di calcolo come si calcolano le emissioni è una formula unica quasi unica per da utilizzare quindi come traduco tutto in CO2 equivalenti le emissioni GHG sono dati dal moltiplicare il dato di attività unità X definita secondo un'unità possono essere chilometri possono essere chilogrammi tonnellate per un fattore di emissione stabilito sempre espresso in chilogrammi o tonnellate di CO2 equivalenti per l'unità X che deve essere ovviamente uguale all'unità del dato di attività che cos'è il dato di attività è i dati di attività sono quelli relativi ai gas effetto serra e sono la misura quantitativa delle attività che risulta di un'emissione o una rimozione il fattore di emissione è un coefficiente che mette in relazione quindi il dato di attività con l'emissione di GHG espresso in CO2 equivalente dal risultato della formula otterremo sempre una quantità in grammi in chilogrammi o tonnellate di CO2 equivalente che sarà la nostra unità di misura di comparazione della forza radiante di un GHG con quella del diossido di carbonio il fattore di emissione in alcuni casi può essere sostituito dal potenziale di riscaldamento globale GWP che è un indice basato sulle proprietà radiattive dei GHG che misura la forza radiante dopo un'emissione di impulsi di un'unità di massa di un dato di un dato GHG dell'atmosfera di oggi integrato in un determinato orizzonte temporale rispetto a quello del bioassido di carbonio il GWP i potenziali di riscaldamento globale sono pubblicati nelle guide di IPCC del gruppo intergonoverantivo del cambiamento climatico mentre i fattori di emissione li potete trovare nelle ci sono varie guide ci sono varie basi dati DEFRA INSPRA SIMAPRO IPCC sono quasi tutte pubbliche quindi come calcolo ad esempio per qualsiasi mezzo di trasporto le mie emissioni quindi le mie emissioni saranno qual è il dato di attività il combustibile usato per il fattore di emissione ad esempio se il mio combustibile usato è in litri l'unità di misura sono litri di combustibile per il fattore di emissione espresso in CO2 equivalenti litro mi darà le emissioni corrispondenti le CO2 equivalenti corrispondenti grammi o chilogrammi o tonnellate di CO2 equivalente possono essere anche chilometri percorsi quindi il mio fattore di emissione sarà in grammi di CO2 equivalenti per chilometri percorsi come devo selezionare i fattori di emissione cosa devo considerare per la selezione dei miei fattori di emissione devono essere appropriati per le sorgenti e assorbitori coinvolti devono essere aggiornati al momento della quantificazione tutte le pagine che pubblicano dove vengono pubblicati i fattori di emissioni vengono aggiornati annualmente quindi non posso utilizzare un fattore di emissione corrispondente all'anno 2021 per richiarare l'anno 2022 se è stato pubblicato anche il dato del 2022 devono permettere il raggiungimento dei risultati accurati e riproducibili devono essere coerenti con l'uso previsto dell'inventario quindi non posso utilizzare ad esempio un fattore di emissione degli Stati Uniti se ho il fattore di emissione per lo stesso tipo di dato di calcolo pubblicato in Italia quindi deve essere sempre coerente con l'uso previsto dell'inventario e deve essere di origine riconosciuta non posso usare un fattore di emissione pubblicato in un altro inventario deve essere sempre un ente riconosciuto a livello pubblico da un ente riconosciuto tipo il DEFRA o Ministero o INSPRAUS devono essere sempre istituti riconosciuti ci sono fattori di emissione che possono essere calcolati però sono casi specifici un po' particolari normalmente la maggior parte dei fattori di emissione sono pubblici tranne in alcuni casi i fattori di emissione associati all'uso di materie prime dove è un po' più difficile incontrare letteratura quindi una volta raccolti i dati realizzato il calcolo delle mie emissioni per categorie sotto categoria devo definire anche quali sono i documenti che devo considerare una procedura devo scrivere una procedura è un rapporto annuale questo è un esempio di rapporto illustrativo della norma per l'elaborazione del rapporto dove devo in base ai dati della società il tipo di emissione definite per tipo di categorie sotto categorie quindi qui devo categoria 1 e tutte le 5 sotto categorie corrispondenti espresse in CO2 equivalenti per ogni tipo di gas effetto serra e le emissioni anche provenienti dalle biomassa se sono presenti altrimenti si dichiarano come zero o con una frase nel report è accettata qui abbiamo gli altri tipi di emissioni indirette quindi le emissioni indirette possono essere direttamente dichiarate per tonnellate di CO2 equivalente quindi abbiamo le varie categorie ad esempio categoria 2 3 4 5 6 con tutte le loro sottocategorie assorbimenti strumenti finanziari se sono di applicazione coefficienti di emissione utilizzati e altre informazioni questo è solo un esempio una volta che ho definito il realizzato l'inventario di GHG devo definire un piano di riduzione cosa dice la norma devo definire pianificare e attuare iniziative di riduzione volte a riduzione ridurre o prevenire emissioni di GHG e aumentarne le riduzioni quindi deve quantificare differenze di emissione e rimozione attribuibili alle attuazioni di iniziative di riduzione esempi di riduzione dei GHG gestione della domanda e dell'uso di energia efficienza energetica miglioramenti tecnologici o di processo cattura e stoccaggio dei GHG serbatoio di GHG gestione della domanda del trasporto e mobilità commutazione e sostituzione dei combustibili riforestazione minimizzazione dei rifiuti uso di combustibili e materie prime alternative per evitare il seppellimento e l'inceneramento dei rifiuti gestione di refrigeranti quindi ho definito un piano di riduzione cosa devo fare preparare un rapporto che sia coerente con gli usi previsti dell'inventario e può essere necessario ad esempio per la partecipazione a un programma specifico o per degli utilizzatori esterni quindi lo voglio pubblicare quindi devo preparare un rapporto di GHG per poterlo pubblicare quando sono obbligato a preparare un rapporto secondo i criteri della norma quando l'organizzazione sceglie di verificare il proprio inventario o di rendere pubblica una dichiarazione su GHG che ne rivendichi la conformità al documento quindi in questo caso i rapporti su GHG devono essere completi coerenti accurati pertinenti trasparenti e pianificati in conformità ai principi della norma e a punto 9.2 della norma dove definiscono i punti il contenuto minimo dei rapporti su GHG per poter essere verificati quindi in caso di verifica indipendente quindi parte terza della dichiarazione dei GHG dell'organizzazione la dichiarazione della venuta verifica deve essere resa disponibile a tutti gli utilizzatori previsti e l'eventuale omissione dei dati riservati da un rapporto su GHG deve essere motivata quindi posso omettere dati riservati ma questi dati riservati devono comunque essere verificati durante la verifica indipendente durante l'audit il processo di audit quindi riassumendo qualora un'azienda voglia essere conforme allo standard ISO 14064-1 di cosa dovrà predisporre di cosa avrà bisogno di un inventario di GHG conforme ai requisiti dello standard di una procedura di gestione dei dati riferiti ai GHG da inserire nel sistema di gestione ambientale un report sui GHG destinato alla rendicontazione al pubblico con diversi livelli di approfondimento però che deve compiere con i requisiti minimi dello standard definito nello standard quindi come potete vedere la norma 14064-1 è ben integrabile anche con lo standard ISO 14001 e lo standard di sviluppo del sistema di gestione ambientale anche con la norma 500001 che è lo standard di sviluppo del sistema di gestione dell'energia l'utilizzo della norma da parte di un'organizzazione allo scopo di realizzare il proprio inventario aziendale dei gas serra ha una doppia valenza operativa perché a livello operativo la mappatura delle emissioni dell'organizzazione permette di identificare tutte le sorgenti emissive capi nell'intensità e al fine di poter impostare politiche e strategie di gestione dei gas serra e anche fino alla carbon neutrality dell'organizzazione è una valenza di comunicazione e rendicontazione cioè a livello comunicativo di rendicontazione lo standard 14.064.1 permette di coinvolgere gli stakeholder interni ed esterni all'organizzazione nella rendicontazione delle performance ambientali e azientali e soprattutto a seguito dell'attuazione delle successive soluzioni di decarbonizzazione in house e lungo la filiera quindi quantificare oggi l'impronta climatica di un'organizzazione mediante lo standard 14.064.1 e prevedere alla sua gestione diventa un'azione utile e attuale in termini di responsabilità ambientale e aziendale anche viene utilizzato anche per fornire dati per la dichiarazione non finanziaria delle aziende ad esempio passiamo all'ultimo passo ma non meno importante che è il processo di verifica per riesaminare in maniera imparziale oggettiva le informazioni relative alle emissioni e rimozioni di GHG l'organizzazione deve condurre una verifica coerente con le esigenze dell'utilizzatore previsto i principi e i requisiti sono descritti nella 14.064.3 i requisiti che gli organismi di verifica sono degli organismi di verifica sono descritti nella ISO 14.065 con cui vengono accreditati anche i requisiti di competenza dei gruppi di validazione e verifica sono descritti invece nella 14.066 che cos'è una verifica è un processo di valutazione di una dichiarazione di dati e informazioni storiche per determinare se la dichiarazione è materialmente corretta e conforme ai criteri una volta realizzato il processo di verifica viene dato un'opinione di verifica e o validazione che è una dichiarazione formale scritta rivolta all'utilizzatore previsto che fornisce confidenza sulla dichiarazione GHG inclusa nel rapporto della parte responsabile e conferma la conformità ai criteri quindi il processo di verifica è finale dell'ISO 14.064-1 l'iter di certificazione o verifica in questo caso è una verifica è diverso da quello di tutti gli altri schemi tradizionali che conosciamo dell'ISO 9.1001 14.1001 50.1001 abbiamo vari passi abbiamo una fase che chiamiamo stage 1 che è un esame documentale una volta che consideriamo che la parte documentale quindi la procedura il report e la dichiarazione e il calcolo dei GHG la definizione dell'inventario è conforme ai requisiti della norma passiamo allo stage 2 di verifica che normalmente si svolge in situ nell'azienda l'organizzazione l'esame documentale invece si svolge normalmente in remoto durante lo stage 2 si realizza la verifica quindi si convalidano il processo di calcolo di rendicontazione e dati e successivamente ci sarà c'è uno stage 3 per la validazione dei dati finale per ultimo c'è la dichiarazione di verifica l'opinion quindi una volta c'è stato sviluppato l'iter di certificazione o di verifica l'ente emette una dichiarazione di verifica questo è un esempio di opinione di verifica o opinion dove quindi non è un certificato è un'opinione di verifica dove dicono che l'organizzazione con il proposito con l'attività è stata sottoposta a verifica e trovata conforme i requisiti dello standard questa dichiarazione è valida solo se accompagnata dall'allegato che è questo dove vengono definiti i confini organizzativi il periodo di riferimento il livello di garanzia se ragionevole significa che tutte le la complessità delle dichiarazioni e degli errori è inferiore al 5% può essere anche limitata ci sono casi in cui può essere limitata nel caso in cui gli errori ammessi sono inferiori al 10% infine c'è l'opinion dove si dichiara che la verifica è stata compiuta ai sensi della norma ISO 14064-3 e della norma ISO 14064-5 del regolamento di Accredia in questo caso in merito alle emissioni di GHG e che tutte le fonti di emissioni sono state verificate per accertare l'affidabilità dei dati di ogni singola fonte che contribuisce alle emissioni totali di GHG quindi sulla base di tutto questo vengono dichiarate e convalidate per categoria tutte le emissioni e le quantità rendicontate in tonnellate di CO2 equivalente sia le tonnellate totali corrispondenti al periodo di riferimento che distribuite per ogni singola categoria qual è il valore aggiunto del processo di verifica è uno strumento fondamentale per combattere il famoso greenwashing quindi è uno strumento per essere trasparenti e quindi poter garantire e divulgare le quantità reali di CO2 equivalenti emesse da un'organizzazione in un periodo definito qual è l'ultimo step il futuro vi ricordo la neutralità climatica aziendale quindi questo è il futuro previsto per il 2050 spero di si possa raggiungere ma questo è il prossimo step grazie per l'attenzione se avete alcune domande alcune perplessità potete mandarmi una mail questo è il mio contatto la mia mail di contatto vi ringrazio per la partecipazione per la pazienza so che è una norma abbastanza tecnica abbastanza complessa e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti